E' iniziata dunque la sfida, buon divertimento a tutti voi che ci state seguendo. Ragiona il difensore del Verona, vede Zimionas, apre sulla sinistra a cercare lo stop di petto di Barri che mette giù il pallone, apra sulla sinistra, si sciuba, larghissimo, si accentra, si sciuba, avanza, lì va al limite dell'area di rigore, Vermesans, palla alla porta, si gira, va sul fondo, la mette dentro, attenzione Monticelli, tutto solo calcia! E al minuto 6 del primo tempo, il Verona passa in vantaggio con il numero 92, Luca Monticelli. Bella azione del Verona con l'avanzata sulla sinistra di Ayanda, si sciuba, poi il pallone dentro per Vermesans che si è girato bene, ha messo in mezzo questo il pallone, sulla destra Monticelli in area di rigore è riuscito ad addomesticare bene il pallone, poi a calciare. E' pronto andare, si si è in mezzo all'area di rigore, va sul secondo palo per la testa di Curti, pallone che esce davvero di un soffio, altro bel tentativo per il Verona di raddoppiare Domeniconi, scambia con Tampieri, ancora Domeniconi, lancio in profondità, cercare lo scatto di Tosco in area di rigore, pallone dentro, non riesce a intervenire Nuaneghe, poi ancora pallone dentro di Valmori, attenzione a Domeniconi, conclusione di Ghinelli, Zouaghi riesce a bloccare il pallone, torna il pallone nei piedi di Barri, poi Zimionas si appoggia lì indietro da Curti, attenzione alla pressione ora di Ghinelli che recupera il pallone da Curti, entra in area di rigore Ghinelli, Zouaghi scivolata, riesce a intervenire sul pallone, il Cesena che lamenta un fallo, in realtà ci è sembrato che l'intervento fosse sul pallone, Curti, naturalmente Vermesan si sciuba alla fine, preferisce andare corto da Sissé all'inietro per Monticelli, Pavanati ha un po' di spazio, prova la conclusione, Pavanati, pallone sul fondo di poco, vediamo Monticelli che lancia in avanti a cercare Vermesan che riesce ad andare via molto bene, a Zamagni, entra in area di rigore, Vermesan guarda dall'altra parte se c'è il proprio compagno, si sciuba a palo, incredibile palo di Ayanda, si sciuba, siamo ormai al minuto 45, il direttore di gara guarda il cronometro e alla fine decide che termina qui il primo tempo di questa sfida, attenzione all'ingresso di Ghinelli in area di rigore, Vermesan ci mette il piede, prezioso il lavoro di Vermesan anche in fase difensiva, Pavanati cade a terra, fa giocare per il vantaggio, direttore di gara, attenzione a Sissiuba, c'è Monticelli in mezzo al campo, avanza ancora, Sissiuba si accentra, l'esterno del Verona serve sullo scatto, Monticelli che ci arriva, prova a saltare il portiere Montalti e poi arriva John Vermesan e arriva il loro addoppio del Verona con il numero 9 giallo-blu, Ellas Verona 2, Cesena 0. Ottima la prova di tutta la retroguardia del Verona fino a qui, a partire da Curti, mezzo alla difesa giallo-blu, Barri ancora sulla sinistra per Sissiuba, 1 contro 1 con abbondanza, Sissiuba va sul fondo, prova ad andare via, riesce, Sissiuba, conclusione sulla linea di porta, ci mette il piede Montalti, poi alla fine spazza via la difesa del Cesena, c'era un po' di spazio per Barri, ha provato la prova alla conclusione, Sissiuba, riviata dalla difesa del Cesena, prova a uscire ora il Cesena che fatica a uscire dalla propria metà campo, adesso c'è l'intervento di Valmori, poi la conclusione di Devoti, traversa piena. Calcio di Puniziano di Jablonski sulla barriera e su questa occasione fischia tre volte il direttore di gara Marco Peletti e l'Ellas Verona vince la sfida contro il Cesena 2 a 0 e quindi si vola agli ottavi di finale dove i ragazzi di Mister San Marco affronteranno il sassuolo di Emiliano Bicica.